mi manchi papà certo non so più quello rapporto di parlare con parlavo prima facciamo questo sforzo ne ha fatti tanti eravate contenti di vedere papà poi avete cambiato espressione quando avete visto lei per noi nostro padre con nostra madre e vive ancora così tu vieni da solo io ti aspetto a braccio aperto l'avresti riconosciuto dopo 47 anni così era tanto tempo fa un bel ragazzo un bel ragazzo Maria De Filippi c'è posta per te domenica alle 20 e 30 canale 5 i nuovi dessert di Cardor sublime distrazione nei bar e al ristorante i nuovi Santuzzo quando riusciva a venire da me mi cucinava un pesce che neanche alla moglie l'ha fatto mai poi è partito ma è arrivato Gennarino con le nuove panaree Findus che idea i migliori filetti di salmone scottati alla griglia con in più i sapori della tradizione mediterranea eh sì, quanto tempo è passato Santuzzo mio meno male che ci sono ancora io che mi ricordo di te le panaree, il miglior pesce Findus con quel qualcosa in più sembra un film è un film il digitale di TelePiù ti offre più di 30 antepremi al mese senza interruzioni pubblicitarie anche in Dolby Surround e Pay Per View e fino al 31 ottobre un'offerta che nessuno ti ha mai fatto la parabola gratis in più Disney Channel in regalo con il pacchetto Super Premium a sole 49 mila lire al mese il digitale di TelePiù Più della TV con il nuovo Nokia Communicator controllo il mio portafoglio titoli tramite WAP leggo le mie email e invio un fax dal taxi così non ho mai bisogno di tornare in ufficio dopo una riunione con Nokia Communicator mi connetto in movimento Nokia Connecting People Alfa 147 venite a provarla sabato e domenica dai concessionari Alfa Romeo Alfa 147 Fino toglietemi tutto ma non il mio braille panorama presenta 8 mm delitto a luci rosse un viaggio nell'inferno del porno con nicolas cage una scioccante prima visione solo con panorama da evu takuma progettata intorno a te lei è una spia signor lina lei ha visto troppi film signorina boss in un mondo dove i sentimenti non contano più ti ho mai promesso niente un grande amore nasce tra le rovine di una guerra non voglio perderti due vite sospese sullo sfondo un mondo che finisce lo sai che cosa ti aspetta berlino sì la guerra michael douglas melanie griffith vite sospese sabato alle 20 e 35 su rete 4 monica bellucci è malena un film di giuseppe tornatore